Allora, Thomas è quello che ci ha chiamato, giusto? Sì Esatto Thomas ha le nostre stesse capacità, se ve la sapere Esatto, esatto Thomas è il papà di sta bambina che ha scoperto, tramite ipotezze, che sto cazzo di Richard abusava di sti bambini Attenzione Però Sicuramente di sua figlia Di sti bambini, plurale, non lo so Non lo so Sì, vabbè, effettivamente io ho allargato la cerchia, ma di sta bambina che era sua figlia Quando ha detto Let Me In, è una frase che dice anche Bray Wyatt, diceva Anche questo cazzo di demone, mi sembra che diceva Fammi in sé, quello che ti insegue Ah sì? Io non vorrei... sì, mi pare di averlo detto sette volte e farmi... però quasi quella è più una mia supposizione Però mi pare di... adesso vediamo, prendendoci sto pezzo qua Richard è il suo stronzo Che è, gli diceva, la più forte di lui Sicuramente tristezza e... E la bambina, dici? E la bambina Eh sì, eh sì Bisogna solo capire che collegamento c'è con noi perché è chiaro che c'è un collegamento con noi Esatto, c'è un collegamento È abbastanza palese Va bene, io riprenderei Riprenderei, esatto Riprendi E lui poi ha provato... Richard Tra l'altro, ecco, io noterei un det... Dicevo, io noterei... Un piccolo dettaglio Lui, Thomas Il suo io del mondo spiritico, spirituale o che cazzo è Ha un'altra personalità Il nostro no Esatto, è vero Quindi, tra l'altro, noi Le cose le vediamo in contemporanea Mentre lui deve affidarsi a lui Del tipo, dimmi che cazzo vedi Esatto Quindi, secondo me Noi In qualche maniera Siamo La controparte Siamo la manifestazione Terrena della controparte spirituale Di Tristezza Che poi si scoprirà essere Lily Lilian In qualche maniera Quando, boh Una certa l'hanno fatta fuori E però la controparte spirituale In qualche maniera si è attaccata Sarà qualche discorso Contorto di questo etico Potrebbe Io sto esplorando intanto sto mondo Che Il posto che ti ha distrutto Sì, siamo nella testa di quello stronzo Sì, siamo nella testa di Richard Premi R1 appena prende l'impatto per contraattaccare Ok Tua madre Eh, volevi Ok Nel lì poteri non deve Succhiarli C'è qualcosa di qui Il si è Il si è Si è Il 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 si è oltre... luce... il malato... il burato... questo posto è veloce qualcosa che succede qui ti hanno cambiato Richard forneggi che c'è? Aspettando nella casa Allora Assoio? Molto bene Coltello Eh Salenpa, salenpa Ma Qua sono tutti i serpenti di Cristo Niente Allora, ho visto il bambino Devo portare il coltello a papà Allora Ah, buon, ciao Ma a fare in culo A tua madre È scassato la minchia però I don't want to go either, son But sometimes What we want Isn't what's important Do you understand? I When will you come back? Take care of your mother, Richard You're the man of the house now Quindi? Ok Allora Allora Qua By the sweat of your brow Cosa? Non ho capito Bestiale Bestiale A dire poco bestiale Voglio da leggere No, è una foto Ritratta Qua Aspetta, aspetta Niente Allora Bisogna 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 Militare Pazzesco Chiaramente Palesemente Devi stare calmo Però Coltello del padre Che bordello raga Allora In qualità di rappresentante Del governo Della Repubblica Di Polonia Desidero fare Le mie più sentite condolianze Per la scomparsa Del tenente Taddeus Tarkovsky L'uomo che state piangendo È morto Nella più nobile Delle cause Il suo paese Sarà per sempre Grato del sacrificio Fatto Per proteggere La nostra libertà E indipendenza Ministro della difesa Nazionale Grief Ok L'ho detto anch'io Quello Poi lavorare Con questo Ok Rabbia Ok Lui si nutre Togli L'opposto Sì Sì Come dicevi tu È chiaramente L'opposto E Ti fa Maceccato Va bene Quindi suo padre Se n'è andato E' morto in guerra Poi Qua le vigne di Barolo Richard Eh Esatto Rose 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 Aspetta 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 Sinistra A destra Stiamo calmi Da sinistra Da sinistra Da sinistra O per la destra Come on Richard My arms are getting tired Rose Ancora Ancora Io penso di avere intuito dove andiamo a parare Comunque Cioè lui si innamora di Rose Quando è piccolo Lui si innamora di Rose Che era una bambina che conosceva lui Probabilmente vede qualche adulto che fa delle robe indicibili a Rose E rimane Come si dice Traumatizzato Guarda proprio in tema Quei discorsi di ieri Incredibili Allora aspetta E rimane traumatizzato al punto da Appunto Da diventare lui stesso il mostro Credo eh Si vada a parare Poi lui rivede Rose in Lily Però attenzione Io non sono sicuro Che sto andando nel posto Mi perdo dei pezzi E neanch'io Mi sto perdendo Allora aspetta Qua cosa c'è? Picnic Qui sono al picnic No Stiamo al stesso punto No ma come un bordello eh Thank you Richard Però Che cazzo sto andando No no Deve essere calmi Perché mi sto perdendo Aspetta Aspetta Un pezzo per volte Che? Oh sei scemo Che fa bambino di merda Però Ah no niente Di qua E' un altro modo di arrivare lì Praticamente Gioco del cazzo Quindi bisogna scendere di qua Va bene Ok Ok Ma Cazzo Cazzo Telecamera C'è poi alla fine Le porto tutte a Roma Ma E non me lo fai vedere cos'è? Lo prendo come un no Scema tua madre Ma scema tua madre Daffa Nel dubbio andiamo a sinistra Eh no Eh no Sono tornato raga nel posto No Non si fa No 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 ma Sono tornato anch'io Eh non fa Rose Rose Eh Esatto E' fatta apposta Vabbè aspetta Sì probabilmente Di qua Tiro una sberla Se ti vedo Over here Raga Eh raga Si fa Non va da sinistra Se come ho sbagliato Vado dritto E non è successo E inizia a stare calma E qua abbiamo dei problemi Di telecamera Lo sento Ah boh Cute Richard Real cute So where do we go from here Where do we go now Quindi Niente abbiamo Dobbiamo analizzare I dipinti Ho capito Qualcosa non va E fin qui Vuol dire L'hai capito dei tentacoli Sulle pareti o Allora Non qua Non ancora Non mi dire Che arriva Quel bastardo Perché raga Vabbè ma forse E' qualcuno No raga Che anzi Che anzi Questo è uscito Dal dipinto devi salire su per le scale qua praticamente la mamma si è messa con un altro che probabilmente non era tutto a posto inizia a chiederlo con gentilezza poi vediamo se non ti spacco la faccia eh esatto non ho un cazzo eh giusto e me pazzesco libera richard libero però sono un po' più silenzioso in queste fasi perché sono eh ma perché c'è un sacco di nozioni un sacco di voci sono molto attento e preso soprattutto non stai calmo non mi sembrava tanto la mamma contenta no no questo è il figlio di troia proprio e che cazzo vuoi cosa ti dio la birra la droga la foto non penso la voglia però io nel dubbio adesso gliela porto mi porto anche la foto voglio vedere che cazzo mi dice sto faccia di picio andiamo un po' facciamolo arrabbiare vero no ma io sapevo voleva l'alcolico forza con il cherry si ubriacava che fichetta buono il cherry per carità però te ma no aia figlio di una troia dai picchiami imbecille le cazze di fa eh di fa diglielo non ho capito se ho sbagliato o se ho fatto giusto poi intanto c'è un carion non mi ci fa interagire quindi probabilmente dovevo portargli quello secondo me ho fallito tu sei riuscito a far qualcosa Beppe no io ho portato eh ho portato eh la birra ehm l'alcolico non era la foto non era eh adesso adesso c'è c'è una pipa ho trovato fermo qua c'è un carion che non mi ci fa più interagire in una libreria vedi se riesci a interagire questo carion o c'era la pipa dentro ma io adesso così stai incazzando eh no non era in una libreria era solo un comodino eh no raga sta pipa porco perché non mi fa interagire questo coso questo portagioie ma perché ma perché allora io provo a dare la pipa aspetta un attimo secondo me era perché ti fa ti fa interagire con un oggetto alla volta vabbè secondo me io ho sbagliato il discorso qua Richard piange nel cuscino va bene che tanto probabilmente doveva farmi vedere che mi menava a prescindere però si esatto ok no è proprio fatta apposta no 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 mommy hold on mommy I'm tummy no no don't go of me don't go of me no 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 please please don't no 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 oh 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 Vabbè ragazzi E vabbè Stai calmo nel senso Chiamala sta scannando Esatto, allora io qua sono davanti al dipinto E sta cazzo di luce tutte le volte Niente, sto video sarà pieno di silenzi interminabili Però è andata così Ma in un altro momento Va bene Richard C'ho l'ansia, c'ho abbastanza l'ansia Anche perché l'attrice che ha doppiato la mamma è stata perfetta Vedo delle orme Vedo, segniamo le orme Di nuovo da parte della bambina Richard è un po' un casino Sì, non è senso Ah, di qua Qua non c'è una minchia Richard, vai fuori Picnick? Picnick? Sei sicurissimo Di quello che dici Non per cattiveria Ma è lui stesso È lui stesso che da bambino Ha una certa dato di matto E da scannata Andava di stare da solo Giustamente Però Sì però stai caro Non devi trattare male gli amici Eh no raga Aia Ok Richard Ho capito la foto Non cambia una cosa Sei sicurissimo Sei sicurissimo di aver capito Perché secondo me non hai capito Poi se hai capito tu e non ho capito io Tanto meglio Credo non lo so Il patrigno Il patrigno sta facendo una buttazione Attenzione Attenzione Ma qua sta salita Ok Ok Va bene Quindi stiamo scannando il patrigno Esatto Ok Ok NOOOOOO Lascia di me! No, non lo so AAAAAAAA Ok Allora E va bene Sì, io qua sto sotto qua... ecco, guarda lì, infatti Collaborate Chi collabora con l'oppressor Esatto E poi? La frase? Non la finisce Ah, ora qua? Chi stia la f***a? Denuncia o... altrimenti agisce contro i miei compatriati La prima casa sulla sinistra, vicino al fiume, davanti c'è un vecchio ciliegio Li nascondono nella dispensa... Li nascondono nella dispensa sotto al pavimento A volte li fanno uscire per sgranchirsi un po', solitamente a fine giornata Ma ogni tanto qualcuno esce anche fuori, probabilmente in cerca di cibo Meglio andarci di notte Chi? Cosa? Bambini? Eh, boh E soprattutto cosa c'entra col padrino Sto cominciando ad essere più confuso di prima Che tutto sommato voglio dire molto bene Thomas Spirit Ok Esatto Però... Va bene, lo abbiamo impiccato, ma perché? Eh I militari, presumibilmente Avrà chiamato... Esatto, collaboratore Chiamati... Chiamati dalla madre, certo Eh, ste cazzo di luci, però mi avete rotto di coglioni Eh? Guarda, son d'accordo Allora Eh! Piccio di un bambino di un piccio Scusate Scusate Eeeh Andiamo a sinistra Boh, rovinato il disegno Rose mi dispiace Esatto Che cazzo ha fatto? Stiamo calmo un attimino, come non si riesce a capire Eh esatto, così Eh però mi hai rotto il cazzo Li pari sti colpi o no? Qua? Non c'è più una minchia Eh va bene Eh va bene La stella Però Niente più echi Niente un cazzo E dai non ti piantare però Di qua Forse inizio a intuire ma Eh in questo momento ci sono più Ho bisogno di te Raga Però No Eh Ok Perché In che maniera E soprattutto dove cazzo devo andare E io non sto capendo dove cazzo devo andare Sono dei piedini per terra Ah Ma saperlo Eh sì esatto Guarda qua Non mi sono perso anch'io adesso Tu me l'hai portato via Qua c'è da leggere qualcosa? No ci siamo già stati Quindi andiamo di qua È fatta apposta sto pezza Partiggere i coglioni No non ho niente Eh no ma I piedini li vanno verso di qua Quindi giusto di qua Io li ho persi i piedini Non li trovo più Porca troia Sto lì li ho persi adesso Eccoli qua Adesso va Adesso va Adesso va Anche io Forse Qua ho già guardato Raga Non mi interessa Vabbè ma devi star sereno Nel senso che Ah ho capito Ho iniziato a capire Ho visto un altro indizio Eh aspetta Perché io non sto capendo Un cazzo invece Qua sto girando Come la merda nei tubi Vai vai Ok piedini Oggi ci fa Cos'hai visto? Eh ho visto una Atta con Titan L'ho visto Eh ok L'hai vista la stella di Davide? L'hai vista la stella di Davide Eh lei era ebrea quindi Eh ho capito La mamma ha chiamato Sti uomini Che erano sicuramente Sì sì Ha chiamato Tipo la Gestapo Eh Probabilmente Il patrigno Era invischiato In qualche maniera Le ha detto Esatto Probabilmente Per levarsi dal cazzo Il patrigno Le avrà Pausa Esatto Per levarsi dal cazzo Allora Diciamole così come stanno Probabilmente Ora abbiamo capito Ora abbiamo capito perché Questa cercava cibo Probabilmente Questi appunti Erano ebrei Si nascondevano Esatto Molto probabilmente La madre sapeva Che c'era un rifugio Comunque degli ebrei Si nascondevano lì in zona E Anna certa Stava talmente patendo Per levarsi dal cazzo Il patrigno Ha chiamato Tipo appunto La Gestapo Vari ed eventuali Dicendo guarda Lì nascondono gli ebrei Sono nella casa Vicino al lago Di fronte al ciliegio Non mi ricordo che cazzo è Lui è un collaboratore Lì nasconde E quindi probabilmente Hanno fatto un discorso Di questo tipo Esatto Lui quindi Lui è incazzato Giustamente Giustamente Incazzato E chissà Quindi magari Lui stesso Ha scannato la madre Allora vediamo Raga il mio tenero fiorellino Però no Lili Mangia bambini Di un giro furioso Eh sì Che penso sia quella bestia enorme Niente Lui probabilmente È rimasto Adesso Madre scannata o meno Lui è rimasto Traumatizzato Da questa cosa qua E quindi Ricercava questa bambina In altre bambine Tendenzialmente Esatto Guardalo lì Che fa Enorme Ma che cazzo è quel cosa Ah questo è coraggioso Ma facciamola finita Vabbè Stanno per arrivarmi Dei cazzotti Raga Kratos Esatto Esatto Abbiamo paura C'è un qualcosa qua davanti Andiamo Andiamo ad assorbire Non me lo fa fare Nenca me lo fa fare Ehm Devo spaccarlo? Lo spacco Esatto Esatto Quello dice Al piccolo Esatto Esatto I need help The monster It's after me Monster You say And what does this Monster look like Sir There's no time Hurry We have to get out of here It's okay It's okay It's okay Richard Why don't you take a moment to catch your breath Do I know you mister Are you one of my stepfathers Friends? No kid I'm not planning on making any friends here I'm here Just For You What? No Don't come any closer Don't touch me I'm sorry kid I know you tried to run To hide Get your hands off me But as long as you're here The beast will always find you Richard No, no capito It was Pretty overwhelming at first Thomas being like me But different somehow I guess I don't have to tell you Thomas? Who the hell are you? The beast Actually He's coming In the world Hunting Hunting Pounder His whole life Hiding Hoping they wouldn't find him I gave him shelter I gave him purpose He could have been so much more Instead He chose to rot In this Godfoss vacant place My Godfoss che senti herrò è lui Richard sono quello che resta di lui la pelle la pelle che si tratta sull'istica tutto per lui Girl. Do I know you, Jillian? You smell. Just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father? Where were you? Oh, shut up. Stop acting like you ever cared about her. She was the light of my life. The warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. And now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. Vic. I am. I've had. He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man. Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you, we can. I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please, do not exist. That's all I want. So be it. Do you think she'll ever forgive me? Will you? No. No. I'm not your judge. I'm just the fairy man. Be gone. Richard. Casa rossa. Della casa rossa. Della casa rossa... Della casa... Della casa rossa. Della casa rossa è stata un sentirsi premieris. Della casa... Si è venuta a quando? Palesemente Ok Però attenzione Quindi se Richard è quella roba enorme Non è il diavolo No, no, non è quella roba lì No Niente, questo sarà un episodio pieno di silenzio E per forza, che devi dire E poi scatto qualcosa Ma va Bestiale Ma sembra che è stata qui, a Niva A Niva Oh, no È un'occhiaire È un'occhiaire È È un'occhiaire Qualcunque sia C'è un'occhiaire C'è un'occhiaire C'è un'occhiaire C'è un'occhiaire C'è un'occhiaire C'è un'occhiaire Nextyear che pop-appano che non è Perché no Fatti strada nella foresta E direi di Caffa